buongiorno a tutti eccoci arrivati ad un nuovo video questa volta riguardante le prospettive operative che avrò nei prossimi giorni su euro dollaro quindi sulla coppia principale del mercato delle valute ovvero il forex passiamo subito subito alla analisi e quello che potrebbe essere interessante prima però vi chiedo sempre di lasciare un mi piace a questo video e ovviamente iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti oltre che attivare la campanella che trovate nella home del canale per ricevere tutte le notifiche quando noi facciamo delle live o vengono inseriti dei nuovi video andiamo a vedere subito il grafico eccolo qua questo è appunto euro dollaro euro dollaro che in questa settimana ha avuto una spinta verso l'alto come si può notare questo qui è un grafico a candele settimanali quindi ovviamente ogni candela esprime una settimana di contrattazione e quindi la settimana scorsa è stata una settimana rialzista diciamo quella appena passata che però se l'andiamo a contestualizzare nella struttura totale di questo mercato notiamo che siamo in una tendenza short e questa tendenza short diciamo che è in linea generale stata rotta in maniera abbastanza chiara nella tre settimane fa nella rottura diciamo nel movimento di rottura nella volatilità che c'è stata proprio qui quindi la zona diciamo 1 16 30 1 16 40 questa zona qua e la va a ritestare questa settimana chiudiamo a 16 45 come si può notare però al momento il ritest o comunque il ritorno all'interno o nei pressi di questa zona è un ritorno come si può notare diciamo come volatilità almeno con con stampo di pullback no non c'è una non c'è stato un vero ritorno di forza ma comunque anche se ci fosse un ritorno di forza voglio dire dove può andare a sbattere quindi dove sono i primi livelli interessanti beh sicuramente area 1 17 l'area 17 è l'area importante in realtà non nego che c'è anche questa zona 1 17 60 molto importante nel recente passato e comunque rimarremmo sempre vedete in un'ottica di ritracciamento che può portare i prezzi verso quell'1 14 13 90 che credo possa potrà arrivare nel prossimo futuro quindi intanto che cosa faccio stasettimana quindi quella che si viene a creare potrebbe essere la settimana giusta per ritrovare anche dei prossimi diciamo trigger short perché non dimentichiamo che questa zona è una zona già questa è una zona importante quindi è ovvio che per noi la zona 1 16 30 1 16 50 è una zona importante di possibile come dire ritorno ritorno dei venditori e quindi in questo caso questa zona sarà la prima che andiamo a lavorare andiamo a vedere nel caso ovviamente si abbiano si abbiano delle informazioni operative quindi se vado sul daily come potete notare già nella giornata nelle scorse giornate tra mercoledì giovedì e venerdì quindi la settimana scorsa se andiamo qui all'interno di questo noteremo dei trigger dei nostri almeno dei miei per chi fa price action questa qui è un outside bar eccola qua e queste sono tutte inside di questa quindi compressione di volatilità all'interno di una vola un po' più alta questa situazione qui eh qualora fosse rotta al ribasso visto la tendenza quindi sotto qui eh i minimi fatti appunto nella giornata di abbiamo detto martedì quindi i minimi andiamo a vedere eh 16.09 quindi se vengono rotti questi minimi è facile che l'euro dollaro possa continuare il movimento short che stava già eh facendo nelle scorse settimane con primo obiettivo ovviamente la zona 15.30 qualora invece si andasse a violare quindi il eh il massimo essendo tutte inside e avendo molto ravvicinato il livello 1.17 eh qua potrebbe venirsi a creare una classica inside fake out pam pam no? o in una candela o in doppia candela quindi cosa significa? significa che il movimento diventa long eh si verrà a creare un breakout eh dei massimi dell'outside ma poi un ritorno dei venditori questo sempre in ottica di mantenimento della tendenza e tenuta dei livelli di eh appunto chiave i livelli di interesse che ci sono quindi diciamo che io mi sto adesso facendo due proiezioni che possono essere le più veritiere nel mantenimento della tendenza ribassista quindi la prima è eh movimento al di sotto di questi 16.09 16.08 possibile continuazione di tendenza movimento al rialzo sopra questo livello io direi da non comprare ma da attendere e di capire cosa avviene soprattutto nel primo livello che è l'area 1.17 1.17 10 insomma la zona che passa per di qua eh perché potrebbe essere che questa venga fallita e crei o direttamente un pattern da qui quindi un inside fake out come dicevo o nel caso in cui invece si rompa e si ritorni qui magari anche una cosa del genere quindi addirittura un pattern poi più fuori che va a continuare la tendenza short quindi queste due tre direi tre ipotesi sono le ipotesi che io sinceramente questa settimana andrei più a lavorare nell'euro dollaro e anche se ovviamente poi potrebbe essere anche che il movimento possa essere continuativo al rialzo quindi di questa eh inizio da questa volatilità e quindi riprendendo il weekly rientrare all'interno di un movimento che magari vuole andare più in alto però al momento ovviamente diventerebbe più una previsione in questo caso restiamo ancorati alle due caratteristiche in questo momento noi abbiamo anzi tre e che ci fanno spesso creare no eh diciamo i presupposti per fare un trade quindi la struttura o studio della struttura abbiamo una tendenza ribassista chiara anche rotta nell'ultimo periodo con tre candele che hanno rotto proprio con chiusura sotto quindi una tendenza short chiara eh abbiamo dei livelli molto ravvicinati importanti dove mh ci possono possono ritornare delle vendite quindi da questo qui direttamente a 1.17 e addirittura i 7.60 quindi questi livelli sono livelli di vendita e quindi diciamo che attenendoci a questo tra l'altro con l'ultimo swing che è uno swing low quindi ha fatto questo poi ha fatto una barra intanto di ritracciamento diciamo che il timing eh per una continuazione ecco della tendenza in atto potrebbe arrivare proprio la settimana prossima ok quindi dalla settimana prossima alla settimana successiva cioè non voglio vedere troppa forza poi su questo ritracciamento no voglio che rimanga all'interno se andiamo a prendere anche le percentuali di questo ritracciamento anche se in questo caso con la rottura le vedo meno ehm come dire funzionali però vedete che le percentuali di tracciamento comunque vanno a soprattutto le più importanti vanno a prendere il 38.2 il 50% va a 17.15 7.17 poi abbiamo il 61.8 che prende perfettamente la zona di 7.60 quindi diciamo che le percentuali di ritracciamento di questa gamba sono poi eh praticamente le classiche ehm vanno classicamente a prendere i livelli miei di domanda e offerta quindi diventa anche un una confluenza però ecco in questo caso direi che io rimarrei in ottica short in linea di massima con queste cose che possono venire a crearsi qualora si dovesse ritornare longer probabilmente non farei non farei nulla anche perché provate a pensare in una settimana settimana prossima per andare lunghi anche se ci dovesse essere no eh uno swing di qua che ci faccia questo però ce lo farebbe poi in x giorni per cui magari tra venerdì e la chiusura della settimana prossima andrei a rivalutare eh a meno che a meno che l'unica cosa che potrebbe venirsi a creare che potrebbe mh farci no pensare a un long potrebbe essere quella che queste inside vengano rotte al ribasso e recuperate al rialzo con un inside fake out invece long a questo punto vedendo i massimi i minimi arrotondati potrebbe essere interessante andare lunghi quindi in ottica di eh di piano io rimango come dico sempre nel mio piano ai eh platinati come diciamo noi di air forex rimango doppia direzione di di cioè rimango aperto sia posizionamenti long che posizionamenti short più propenso allo short visto la tendenza e soprattutto abbiamo anche delle possibilità di short già pianificate cioè uno la rottura di questo minimo e il movimento di continuazione viste le inside che rientrano quindi all'interno di questo livellone quindi continuazione del trend e quindi questa diventa una falsa rottura di questo oppure abbiamo detto mh falsa rottura al rialzo pam pam inside fake out in una o in due candele che può creare nuovamente trigger short oppure si fuoriesce da qui e ci crea in area 117 un trigger short per andare a vendere questa è l'ipotesi di vendita più interessante a mio avviso da poter tradare nel momento invece in cui dovesse venire a crearsi nel giro di uno o due giorni al massimo quindi un inside fake out o una candela o doppia quindi questo questo a quel punto questa situazione o in doppia candela ovviamente questa situazione potrebbe creare quel trigger e quindi i massimi i minimi arrotondati che potrebbero portare i prezzi a fare l'117 e 10 per esempio e quindi si può anche riflettere su farci un trade long di breve respiro contro la tendenza in atto ma che va diciamo nell'ottica di breve come tendenza quindi queste secondo me sono le ipotesi più interessanti più plausibili per me che faccio price action per la prossima settimana da fare ecco pianificato un po il deal il deal diciamo le possibilità che vorrei fare la prossima settimana va bene bene io credo che sono stato molto chiaro anche più del solito direi che per oggi abbiamo detto tutto vi ricordo vi ricordo che per qualche altro giorno e quindi c'è la possibilità ancora di potersi iscrivere abbiamo il mese del platinum sul sito iar forex quindi abbiamo sia tutte le mentorship tranne quella mensile cioè la semestrale l'annuale sia l'entrata lifetime nella scuola ad un prezzo veramente molto molto interessante quindi se volete approfondire il metodo o volete rientrare nel platino perché lo eravate siete usciti adesso fino al 31 di ottobre abbiamo questa possibilità quindi un prezzo davvero scontato quindi se volete basta scrivere come al solito email su infochioccio iar forex puntocom io a questo punto vi saluto vi auguro una buona continuazione di giornata un buon weekend e basta direi che al momento abbiamo detto tutto quindi ci salutiamo grazie a tutti buon trading sim